A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, torna la cravatta rossa e quando torna sono guai, significa che il caldo ci farà compagnia ed aumenterà ancora, ci farà soffrire nei prossimi giorni, nel weekend e la prossima settimana, caldo anche intenso, troppo intenso direi, comunque vedremo poi cosa accadrà nei prossimi appuntamenti meteo. Intanto un'Italia nel segno del caldo, le temperature stanno aumentando, a parte qualche isolato rovescio nella giornata di sabato sull'arco alpino, però vedete sul resto del territorio, sul nostro territorio, situazione piuttosto tranquilla e con temperature che aumenteranno ancora un po', quindi grande caldo già nel corso del weekend, ma non finisce qui. Insomma, giugno sta davvero scaldando, forse un po' troppo, i motori. Quest'oggi concludo con un pensiero di Gianni Rodari per il mese di giugno. Giugno è falciatore, il fieno manda un dolce odore, in alto, in alto la lodola vola e il bidello chiude la scuola. E io faccio un in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno affrontando gli esami di maturità, questi pazzi esami di maturità. Arrivederci!